Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi su Minecraft dobbiamo vedere un attimo di trovare intanto un altro fiore perché mi sono dimenticato che qua c'è un vaso quindi ci servirà un altro fiore abbiamo messo i parafulmini dobbiamo andare a cuocere questi per fare non so che farcene di questo rame ecco piove e piove e non si vede niente allora per fare stavo dicendo il nostro camino allora vediamo qua di portare avanti questo sentiero e poi ci congiungiamo qua ok perfetto facciamo un po' di pale una e due quindi una pala due pale tre pale e quattro pali perfetto posso uscire grazie e direi di fare così oh la la questi spigoli qua li togliamo e abbiamo un sentiero ok poi dovremmo avere un uno uno ma veramente proprio così? cioè così poco? uno me ne è dato? uno ok dato che pioggia questo sta cuocendo direi di andare a posare questo cartello qua farei un'altra fornace perché una è poca e l'andrei a mettere per adesso ma anche qua va bene dobbiamo cuocere un po' di carbone eccolo per fare qualche torcia perché sennò siamo al buio bruciando tutto quello che c'è da bruciare che possiamo bruciare vai perfetto uno e due e due perfetto allora andiamo qua andiamo questo e abbiamo 16 torce buono direi aspetta un attimo questi qua li possiamo bruciare perfetto allora da dove si esce? da qua ho messo grazie dobbiamo andare alla ricerca di carbone e altre cose carine allora andiamo di qua e seguiamo il sentiero così corriamo più veloce e non ci perdiamo perfetto guarda qua è perfetto oh bella torcia e direi di cominciare a scavare tipo uno due tre quant'è? uno due tre quattro cinque direi di cominciare a scavare una cosa del genere possiamo fare così così ci vediamo di più ok ho trovato del rame il rumore della pioggia è svanito fortunatamente vediamo se riusciamo a trovare del ferro per farci una bussola o qualcosa un piccone di ferro per poi prendere la redstone e farci una bussola non sarebbe male così possiamo andare all'esplorazione fatemi sapere se volete vedere un gameplay abbiamo trovato il carbone volete vedere un gameplay mentre scavo oppure no faccio tutto in off camera fatemelo sapere onestamente mi piace portarvi l'intera gameplay anche quando scavo per farvi vedere più o meno appunto le varie tecniche di scavo e come scavo io oppure datemi dei commenti sui commenti scrivetemi come è la vostra tecnica di scavo come fate a trovare minerali eccetera eccetera quali sono i vostri metodi ok allora qua si sta diventando buio dietro di me ma dobbiamo mettere un po' di torch allora facciamo così e incominciamo a mettere qualche torcia altrimenti qua qualche creeper ci fa fuori ok è scavato doppio terrore ecco 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 se riusciamo a trovare qualcosa di bello ah la canzone ma con il rame oltre al al parafulmine cosa ci fa? nulla? nient'altro? quanto rame c'è? mi sembra uno spreco non ci posso fare una corazza un qualcosa un altro carbone quando è che implementeranno se c'è un piccone si rompe un piccone ti auto mette il piccone in mano non ci posso fare una corazza non ci posso fare una corazza Ma questa è nuova questa canzone Non l'ho mai sentita La prima volta che la sento Neanche un po' di ferro adesso Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. Grazie a tutti. E vabbè vuol dire che è un punto sfortunato non lo so ma tanti questo posto qua dobbiamo fare la larghezza di tre. Questi gradini avranno una larghezza di tre quindi avremo un bel po' da scavare. Forse abbiamo trovato il ferro eccolo qua trovato finalmente. Un po' poco però meglio che niente no? No forse quella di prima non era la diorite era il granito giusto adesso è la diorite. dobbiamo farci il pavimento bianco. questa cosa cos'è? Andesite. Andesite. diorite eccetera 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 forse la diorite ho utilizzato tanto l'andesite e il granito non tanto. Non ce ne vedo l'utilità. Invece voi come la utilizzate? Riuscite a trovarmi o riuscite a trovare voi un modo per utilizzarle? Vi piacciono? Non vi piacciono? Scrivetelo qua sotto i commenti cos'è quella cosa nera che ho visto? Cos'è sta roba? Cos'è? Carbone? Ardesia profonda? Eh? Attenzione c'è un buco qua. Ma che sta succedendo? Ehm... C'è un buco? E come faccio a scendere? Ehm... C'è qualcosa che... Dove è andesite? Mi chiamo andesite? Ecco, si è rotto Dobbiamo tornare indietro Lasciamo qua E non abbiamo più Ah no, ce l'abbiamo un altro Fermi tutti, ce l'abbiamo un altro Fermi tutti, fermi tutti Ok Ah, è una grotta Abbiamo trovato una grotta Mettiamoci la spada Illuminiamo Questo cos'è? Ahia Ma perché questo dolore è così gratuito Oh Cos'è sta roba? Ma intanto prendiamo il ferro Abbiamo del carbone Quindi possiamo Anzi Pulsiamo la carbonella Ci facciamo le torce E qui c'è Lo strapiombo Ferro Torce in mano Così si vede Uh, oro Perro Perro ed oro Perfetto Torcia Torcia Acqua C'è niente Qui L'acqua E sento E sento Dei mostri Prendiamo il ferro Continuiamo Altro ferro Oh, finito Però abbiamo raccolto un bel po' di ferro E qua Madonna Sono saltato in aria Sono saltato in aria Ok Allora Qua si Allarga Uh, eccola qua Uh, diamanti signori Diamantoni Ok Diamanti Diamanti Ferro Ok Abbiamo trovato i diamanti Allora, di qua tutto a sinistra E che creeperone No Che fa Non l'ho colpito Va bene Ok Ho fatto un po' di spazi Di qua E poi saliamo di qua Seguiamo la luce Eccolo Sapevo io che c'era Qualcuno che rompeva le scatole E sono morto Ok Andiamo subito a recuperare il tutto Perché Sennò perdiamo tutto E ho raccolto E ho raccolto un sacco di ferro Avevamo poca vita Mi sa C'è un ben di dio Proprio Nelle mani Cioè C'è tutto l'inventario pieno No, 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 no Dobbiamo correre Via Dovevamo tornare a casa Tanto io stavo cercando di capire Dove era la scala del ritorno Non la trovavo Noi siamo ancora vulnerabili Ci abbiamo Non ci abbiamo armatura Non ci abbiamo nulla Ok Scendiamo di qua Eccole là Ok Adesso recuperiamo il tutto Ok E ce ne scappiamo Ma che è sta roba Dove è Questo E questo Ok E torniamo a casa 56 di rame Quando ho preso 56 di rame Ferro 27 Perché 56 di rame Perché il rame te ne da di più Cioè E' inutile sto rame Questo mi intrigherà tantissimo E faremo una cosa del genere Andesite Oh Scimmo a rivedere le stelle Avevo recuperato tutto Meno male Seguiamo il sentiero E andiamo a mettere a cuocere Il ferro Di qua Mettiamo a cuocere No Questo non ci interessa Il rame Onestamente il rame Non ci interessa Cuocerlo Assolutamente Blocco di Speleotema Ma che serve Non lo so Roba Andiamo a vedere Aspetta un attimo Usiamo questa E vediamo come è venuta la casa Che da un po' che non la vediamo Ah dai Non è male Questa è casetta nostra Bene Signori Io vi saluto Vi auguro Una buona giornata Buona serata E Ricordatevi di iscrivervi al canale Lasciate un commento Un like E se vi va Iscrivetevi Lo siete due volte Perché ci spero tanto Che vi iscriviate Per supportare il canale Alla prossima Bye 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 Grazie a tutti.